Perché le piante sono verdi? Le piante sono verdi perché contengono clorofilla, un pigmento che assorbe luce rossa e blu e riflette la luce verde. La clorofilla è essenziale per il processo di fotosintesi delle piante, durante il quale le piante assorbono la luce del sole e la trasformano in energia. Questo processo è ciò che consente alle piante di produrre ossigeno e zuccheri, fornendo loro i nutrienti necessari per crescere e prosperare. Ecco perché è così importante fornire alle piante abbastanza luce solare per garantire che il processo di fotosintesi possa avvenire in modo ottimale. Inoltre, le piante non sono solo belle da vedere, ma hanno anche molti benefici per la salute, come migliorare la qualità dell'aria e ridurre lo stress. Aggiungere piante alla tua casa o al tuo ambiente di lavoro può fare la differenza nel trasformare uno spazio noioso in un luogo accogliente e rigenerante.